L'acna si sta anche attrezzando ad importare la tecnologia d'avanguardia dal Giappone. L'alga giapponesi, che non è come l'alga dell'Adriatico dall'Adriatico che non fa un cazzo dalla mattina alla sera. L'alga giapponesi e giapponesi. Atenta, metodica, disciplinata. Controlla la scoria con la coda dell'occhio. Appena la scoria si distrae, essendo essa stessa scoria animale distratto per natura. L'alga, come un falco sulla carugna. Dran! Se la magna! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!